Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, dopo cinque giorni di ricerche, sono ancora introvabili. La coppia di ex fidanzati, entrambi di 22 anni, lei residente a Vigonovo, nel Veneziano, e lui a Torreglia, nel Padovano, sembra essersi volatilizzata dal sabato 11 novembre. Tuttavia, un recente sviluppo potrebbe portare a una svolta nelle indagini. Frammenti di vestiti sono stati scoperti lungo un argine nella zona. I carabinieri avrebbero rinvenuto oggi pomeriggio a Stigliano, comune di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, dei frammenti di un vestito lungo l'argine del fiume Muson, o di una canaletta limitrofa, che sono attualmente oggetto di repertazione. Questa scoperta potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per capire cosa sia successo ai due giovani. Oggi, in particolare, avrebbe dovuto essere una giornata di gioia per Giulia, poiché si sarebbe dovuta laureare in ingegneria biomedica presso l'Università di Padova. Tuttavia, questo importante traguardo è stato improvvisamente interrotto, e la sua tesi è stata congelata. Emergono ipotesi intriganti riguardo al motivo di questa interruzione, con la famiglia della ragazza che suggerisce la possibilità che l'ex fidanzato abbia impedito la laurea per timore che, dopo il conseguimento del titolo, Giulia avrebbe potuto allontanarsi definitivamente da lui. La situazione continua a destare preoccupazione, e le indagini proseguono per cercare di gettare luce su questa misteriosa scomparsa. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!